di centocinque, il programma più ascoltato d'Italia. Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, questo è un regalo che vorrei fare agli ascoltatori perché qui li abbiamo tutti e due. Allora, noi prendevamo la voce di Jerry Scotti e chiamavamo degli ignari cittadini, gli facciavamo lo scherzo facendogli credere che stava partecipando a chi vuole essere il milionario. In questa telefonata abbiamo due miti, il bestimiatore veronese, detto anche 666, è una persona che purtroppo è venuta a mancare, ma non voglio svelare nulla, ve la faccio ascoltare, vai Pippuzzi. Chi vuole essere minchionario? Chi vuole essere minchionario? Pronto. Un saluto a tutti e benvenuti a Chi vuole essere milionario seconda edizione, l'unico gioco che vi offre l'opportunità di vincere un milione di euro virtuali rispondendo correttamente ad una serie di quindici domande. Se siete pronti, possiamo iniziare. Sarai solo tu a giocare o parteciperanno anche i tuoi amici? No, però siamo un cazzo. Fra te e il milione ci sono quindici domande. Se tutto è pronto, iniziamo con la prima domanda. da cinquanta euro. Di che colore è il mantello di Superman? Rosso. Giallo. B. Rosso. C. Blu. D. Bianco. Rosso. Sono sicuri che la risposta esatta sia la B. Allora? Dai. Seguirai il loro consiglio? Sì, sì, sì. Ok, hai scelto di chiamare a casa. Ricordati, la risposta che riceverai adesso telefoniamo. No, ma chi chiami? Aia. Aia. Ma dai. C'è il cazzo. Pronto chi parla? Avesse il meme del togare che ne ho qua. Eeeh! Non ho capito! Vale! Ai! Che sfida! Questo non è asfalto pigliola, è sterrato. Eccolo qua, che cosa vuoi? Sei qui per gongolare? Sullo sterrato devi affrontare la curva a tavoletta, giocare con l'acceleratore. Sì, è arrivato È la tua risposta definitiva? Sì, è arrivato Sono certo che potrei rifarti tornando a giocare a chi vuole essere milionario seconda edizione Sì Ti pianto un coltello nella schiena Ti pianto un coltello nella schiena Un pazzo Quanto ci manca, è presto, Pippo Quindi vuol dire che devi affrontare la tua...